Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale approva il bilancio consuntivo di Arti 2022, l'Agenzia regionale per l'impiego. L'atto, approvato con 17 voti favorevoli da parte del Partito Democratico Italia Viva e 8 contrari Fratelli d'Italia e Lega, è stata l'occasione in aula per un confronto sulle politiche attive del lavoro. L'Agenzia, che ha un bilancio di oltre 14 milioni di euro, ha tra i maggiori costi quelli dedicati a formazione, innovazione e lavoro. Indubbiamente l'Agenzia regionale per l'impiego svolge oggi un ruolo fondamentale, anche alla luce delle risorse importanti che sono arrivate sia dalla Regione ma soprattutto dal Governo, nell'ottica di favorire le politiche attive del lavoro. E' chiaro che a questo, diciamo, aumento sia delle risorse in organico e naturalmente anche dei costi, deve corrispondere dal nostro punto di vista anche un efficientamento della macchina. Questo significa che Arti deve funzionare, deve funzionare come strumento, oltre, anzi, insieme ai centri per l'impiego, per favorire quanto più possibile l'occupabilità. In questo senso io credo che l'ordine del giorno, che è stato approvato anche dalla maggioranza, sposi questo tipo di approccio, perché è impensabile investire risorse in un sistema che non funziona. C'è un'esigenza che è quella di cercare di reinserire nel mondo del lavoro anche alla luce delle modifiche normative che hanno abolito il reddito di cittadinanza, anche se in realtà è scorretto parlare di vera e propria abolizione, soprattutto perché finalmente si riesce a distinguere tra persone che sono occupabili e che quindi possono essere inserite nel mondo del lavoro, rispetto a chi invece naturalmente ha la necessità di avere tutt'oggi un sussidio, perché non ha possibilità di entrare nel mercato del lavoro. Se noi riusciamo a cogliere questa sfida, quindi portare al massimo valore le riforme normative e a utilizzare ciò che abbiamo in campo come Regione Toscana per rendere davvero questa Regione una Regione che crea occupazione, che crea lavoro, che inserisce giovani, che inserisce le persone che in qualche modo sono potenzialmente adatte ancora oggi a dare qualcosa al mercato del lavoro, a cominciare anche da kipper del lavoro, ad esempio, per crisi aziendali, io credo che questa sia una sfida che riusciremo a vincere. In questo senso monitorare l'attività di arti è fondamentale. I numeri parlano di un bilancio solido dove abbiamo registrato uno scostamento fra costi e ricavi che è stato poi giustificato anche dalla società che controlla le partecipate della Regione Toscana, quindi sicuramente con una parte da destinare anche del disavanzo e quindi dell'utile d'esercizio, stabilendo poi le percentuali con cui destinarlo e dove destinarlo, con alcune piccole raccomandazioni ma con un'ottica prudenziale di previsione che giustifica poi questo scostamento fra costi e ricavi. Ma è stata l'occasione importante per ribadire quello che è il lavoro di questo ultimo anno e quindi lo scatto anche di arti nel delicato e importantissimo ruolo nella formazione e nell'occupazione delle persone che cercano lavoro in Toscana. Quindi abbiamo ribadito, come fu fatto in commissione con la direttrice e con tutti gli uffici, quali sono i nuovi punti e anche l'utilizzo dei fondi nazionali, tanti che sono arrivati in questa Regione, e l'animazione sui territori attraverso i centri per l'impiego con l'importante incrocio fra imprese e coloro che cercano il lavoro. Quindi andando sui territori e cercando su ogni specificità di ogni singolo territorio di incrociare la domanda e l'offerta. Insieme a questo ci sono altri temi, quindi la parte dedicata alle persone con disabilità psichica e con ogni tipo di disabilità, dove vengono creati dei percorsi formativi insieme alle aziende, le persone che sono vittime di violenza, un'attenzione particolare alle crisi aziendali e quindi un collegamento, un raccordo forte con la direzione che si occupa delle crisi aziendali della Regione Toscana, cercando di ricollocare le persone che perdono il lavoro a causa di una crisi aziendale. 800 persone sono quelle che lavorano per arti, è un bel esercito di persone perché il valore del capitale umano è importantissimo, per seguire in maniera più adeguata, precisa e capillare tutte le persone che cercano lavori, ognuno con il proprio profilo. Quindi questo è il grande lavoro che sta mettendo in piedi con grande impulso ed è stato ribadito in Commissione ma anche in Consiglio che noi stessi dobbiamo promuovere e far conoscere sui territori che questo importante strumento sta ottenendo successo, sta dando dei risultati e sta creando occupazione in Toscana. Quindi un bilancio molto positivo e anche un'incitazione a continuare su questa strada. Tra i temi all'ordine del giorno discussi dal Consiglio regionale, il salario minimo con l'approvazione di due mozioni presentate in aula dal gruppo di maggioranza. Gli atti hanno visto il voto favorevole anche del Movimento 5 Stelle. L'obiettivo delle mozioni approvate è quello di garantire la dignità dei lavoratori attraverso il riconoscimento di un salario minimo orario e stimolare Giunta e Governo nazionale ad affrontare questo tema. La mozione risale al 2022 da quando abbiamo iniziato a intraprendere questa battaglia per il salario minimo orario che oggi appare sempre di più come una battaglia di civiltà. Per tutti quei lavoratori poveri con delle soglie di reddito che arrivano a 3 euro all'ora e quindi con delle cifre che non permettono neanche di sopravvivere al rincaro delle bollette, degli alimenti, di tutto quello che è il costo della vita. E ci ha colpito veramente vedere le destre che non hanno votato o hanno votato contro a quello che è davvero un andare incontro alle tante famiglie che in questo momento non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 3,6 milioni di lavoratori in Italia, in Toscana molti di essi sono persone che lavorano nel mondo nel settore del turismo come è stato identificato da IRPET ma ci sono anche tantissimi giovani, ci sono tantissime donne e spesso delle famiglie con un solo genitore quindi questo riuscire ad approvare il salario minimo orario significherebbe per tutte queste persone una boccata d'ossigeno e soprattutto veder riconosciuto il diritto costituzionale del primo articolo della Costituzione, del numero 36, che dice che il lavoro deve essere retribuito con un'adeguata quantità di denaro per l'impegno che la persona ci mette. Questa è una battaglia che va a tutela della qualità della vita delle persone non soltanto ma anche della dignità del tempo e della vita di tutte le persone. Per quanto ci riguarda abbiamo deciso di non votare la mozione proposta dal Partito Democratico perché siamo in linea con quanto chiesto dalla Presidente del Consiglio Meloni. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto in maniera chiara di non essere ideologicamente contraria al salario minimo, di condividere con chi è promotore della proposta per il salario minimo l'obiettivo finale del percorso che deve essere quello di migliorare il potere di acquisto dei salari italiani perché va superata l'epoca del salario a basso costo da cui stiamo uscendo con grande difficoltà anzi stavamo uscendo con grande difficoltà prima di imbattersi nella crescita esponenziale dell'inflazione ma non è detto che il salario minimo sia l'unica proposta percorribile, l'unica strada percorribile. Il Governo italiano ha dato mandato al CNEL di elaborare altre proposte, ha dato 60 giorni di tempo al CNEL per elaborare altre proposte, i 60 giorni finiranno all'incirca ad inizio ottobre, prima della metà di ottobre non vedo perché non si debba aspettare di avere sul tavolo tutte le varie opzioni per poi poter scegliere quella migliore ma che si fa a 10 giorni dall'arrivo sul tavolo della proposta del Governo si porta in aula una mozione per sposare in maniera ideologica quella battaglia del salario minimo garantito. Noi abbiamo emendato ed è stato accolto dal Movimento 5 Stelle gli emendamenti che il PD ha presentato e la nostra partiva dà la richiesta al Governo affinché non venisse soppresso perché c'è stato un emendamento a luglio scorso che in Commissione parlamentare, Commissione lavoro chiedeva la soppressione dell'articolo 1, quindi di fatto quella sul salario minimo e noi abbiamo fatto questa impegnativa alla Giunta affinché in conferenza Stato-Regioni e al Governo chiedesse di non sopprimere l'articolo 1. Per noi è una battaglia importante perché già in Regione Toscana nel febbraio scorso abbiamo approvato una legge che riguarda gli appalti pubblici della Regione Toscana ma anche degli enti collegati, quindi Estar, parchi regionali, che prevedesse il salario giusto ed attuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle aziende che partecipano ai bandi della Regione Toscana ci fosse un equo reddito dei propri dipendenti. Quindi questo ci sembrava il primo passo, ancora oggi unica Regione in Italia aver fatto questo passo che era un'indicazione per le linee guida alla Giunta regionale. Detto questo il lavoro nostro si ferma per competenza a quel livello e abbiamo chiesto che al Governo facessero un passo in più il PD in questo momento si sta mobilitando, non solo il PD ma con altre forze politiche e quindi ci sembrava giusto con quelle forze politiche che stanno condividendo questa battaglia di affiancare questo lavoro che stanno facendo in Parlamento. È un segnale di dignità anche perché la Germania ha innalzato la soglia del lavoro minimo a 12 euro ma è previsto anche che venga innalzato, parametrato a quello che è il paniere d'acquisto dei cittadini in un momento così difficile di inflazione. Quella è la base minima di partenza che non va a tancare poi i redditi, i lavori più alti che sono poi oggetto di altre contrattazioni collettive. Quindi questo riguarda i precari, le persone in difficoltà e lo sfruttamento del lavoro. Intervento del Consiglio regionale in tema sanitario per il trasporto sociale rivolto a soggetti con fragilità socio-economica. L'atto è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Sanità e approvato dal Consiglio all'unanimità. La risoluzione prevede di rivedere al termine del percorso di sperimentazione in atto i criteri relativi al trasporto di soggetti con fragilità socio-economica rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. Noi abbiamo chiesto una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scelerata ovvero quella di introdurre dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemie o la radioterapia quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già approvate quindi abbiamo presentato questa mozione è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro il che evidentemente parlava da solo la giunta ha avvarato una sperimentazione e nei primi mesi ci ha dato ragione cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale questo lavoro è stato hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che un'animità sia la giusta conclusione è diverso da dire quello che abbiamo accettato e che è stato votato dalla soluzione del problema ora vedremo ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale la giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura la giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione